Altra giornata in maglia da leader del Gran Premio della Montagna, Giulio, diciamo che il tuo giro finora è più che positivo. Sì, direi che per adesso è partito bene, era questo l'obiettivo delle prime tappe e adesso aspettiamo l'Aquila per provare a fare una tappa come si deve e poi penseremo agli altri giorni. Guardiamo all'Aquila, manca qualche giorno, venerdì si arriva al capoluogo, dieci anni dal terremoto, cosa stai pensando? No, diciamo che queste giornate sono state lunghe, tanti chilometri nelle gambe, quindi spero di arrivare nel miglior modo possibile e mi sto, tra virgolette, preparando sia mentalmente che fisicamente per venerdì. E qui al giro, Giulio, ora con questa maglia da leader si sente sempre il tuo nome, sei diventato un beniamino dei tifosi, cosa significa? Questo fa sicuramente tanto piacere perché comunque sia in Italia, essere con una maglia da leader al giro d'Italia è sempre un qualcosa di bello e spero di portarla più a lungo possibile.